Amici telespettatori Soltamente in testa la manager che rallenta, si ferma, colpo di scena amici La manager è superata da tutte le altre concorrenti Scatta bene in quinta corsia la signora in rosso La sposa tenta il recupero ma è incredibile, la sposa è caduta La favorita è talonata dalla donna con la spesa Finale entusiasmante, è un testa a testa ma attenzione perde il passo Si ferma, ancora una sorpresa, emozioni a non finire in questa gara La favorita allunga ancora, è sola, ecco sul trebando, è suo, è suo, è suo Una prestazione superlativa, conquista la posizione più ambita La rabbia, la delusione delle avversarie sconfitte ancora una volta hanno perso un'altra occasione Adesso aspettano che si apra per loro una nuova opportunità Dallo stadio è tutto, a voi studio Per molte donne la vita è una corsa, vescica iperattiva Non fuggire dal problema, parlane con il medico